Io soito in Doe, Caragalla, al teatro a vedere l'otello, è un dramma di un giallo, di un giallo, che a vedere l'impressione le fa. C'è Desdemona, c'è Otello, c'è Iaco, che davvero mi piace, non frego, c'è Stacassio Arfiere per Svago, e Stacassio fa bello a rabbia. Desdemona iotella, dalla mattina alla sera, con buona maniera, se vorrebbero amare, però c'è se mette Stacassio Arfiere, che tutte le sere, te li falli di caso. Succede allora il dramma che se sarà, per via di questo Cazio che c'è sta. Al primatto, di Desdemona e di Odello, sono tranquilli e qui Cazio è tranquillo, ma poi Iaco gli fanno un bel tranello, via Cazio e tu fa un briaga. Con sto Cazio è un briago in pasticcio, e succede un grosso pattaccio, strillotello lo caccio, lo caccio, ma non sa se lo deve cacciare. E il barbaro a Odello, a Desdemona ammazza, e tutta la razza, te vuole ammazzar. Ammazzar maestro, l'orchestra e i cantanti, ma sempre davanti, sto Cazio gli sta. Se infuria un loro Odello e se ne va, perché con Cazio non si può sfogar. Da quel giorno, ogni notte che passa, io di Odello mi sogno la rissa, vedo Cazio che s'arsa e s'abbassa, di Odello che lo vuole agli appassi. Accidetti all'odello che è geloso, che per gelosia a Desdemona ha ucciso, io la notte metto in un riposo, per la fascia che Cazio mi fa. Mamma, mamma, appena a teatro, arrivando un Odello, lo giuro su quello, che me voglio sfogar. Ma stacco con gli ago, a Desdemona l'ambroio, e a Cazio gli aloglio, la testa tirà. Così voglio vedere là per là. Odello, senza Cazio, ma come fa?